nessuno fugge dal loop non se ci sono io sto radunando i più grandi cacciatori di tutte le realtà e ho iniziato dal migliore convincere mando costa molti crediti ma questa è la via il piano puro caos e nessuno può seminarlo meglio di loro menes il miglior gladiatore esistente il tipo non è mai stato sconfitto man cake un biscotto forgiato sul fuoco dell'ira e mei sei solo una guerriera barbara muta forma mentre esplorano l'isola avranno conti da regolare e taglie da riscuotere e intanto noi ci prepariamo per la prossima fase ed è solo l'inizio allora che cosa aspetti la caccia è aperta